ciao e benvenuti a crochet romance in questo video vedremo insieme come realizzare il scaldacollo e il cappello lavorato ai ferri con il kit di katia il nuovo knit ensemble stiamo realizzando questo kit in un evento del gruppo facebook la borsa di mary poppins e faremo sia la versione ai ferri che all'uncinetto in questo video quindi vediamo come lavorare il kit ai ferri io ho scelto il colore 402 e qua vedete già le sfumature di tutti i colori che possono essere scelti per realizzare questo kit qui vediamo il cappello all'uncinetto e lo scaldacollo abbinato all'uncinetto e invece qui abbiamo scaldacollo ai ferri e cappello ai ferri si tratta di modelli basici molto molto facili anche per chi lavora per la prima volta un progetto con i ferri circolari quindi spero di esservi utili con questo video mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube e continuate a seguirmi il kit l'avete già acquistato se state vedendo questo video e quindi non ci resta che iniziare la lavorazione oltre ai al filato ci servono i ferri circolari con il filo da 40 centimetri e un marca punti iniziamo con la realizzazione del cappello e per fare ciò usiamo il gomitolo più piccolo e iniziamo lavorando prendendo il filo dall'esterno come ci dicono le spiegazioni quindi non prendiamo il filo dal centro ma dall'esterno ok e adesso dobbiamo avviare 88 punti sul nostro ferro per sapere quanto filo dobbiamo lasciare per fare l'avvio avvolgiamo il filo attorno alla mano per quattro volte ogni volta che facciamo questa ruota equivale circa 10 punti ok quindi scusate dobbiamo avvolgerlo per otto volte 5 6 7 e 8 e poi io faccio ancora due giri extra per essere sicura perché forse la mia mano è piccola e quindi conoscendomi so che ci vuole un po di più di filato poi facciamo un'asola d'avvio ora carichiamo questo punto sul ferro sarà già il primo punto ok stringiamo un po l'asolina senza esagerare e adesso avviamo i nostri punti ora qua abbiamo questi due fili entrate con l'indice e il pollice all'interno di questi due fili girate la mano e aggrappate con le altre dita il filo e allargate indice e pollice ora pieghiamo indietro la mano e possiamo fare l'avvio per fare l'avvio con l'unce con il ferro prendiamo il filo dall'esterno del pollice e poi il filo dall'indice facciamo scivolare il filo del pollice sopra il ferro sopra il filo dell'indice stacchiamo il pollice e stringiamo rientrando con il pollice all'interno dei due fili e allargandolo si stringe la maglia di nuovo giriamo la mano verso l'indietro prendiamo il filo esterno dal pollice prendiamo il filo dall'indice facciamo passare sopra l'asolina stacchiamo il pollice e stringiamo e così andiamo a montare i nostri punti per un totale di 88 anche la prima asolina d'avvio vale già come primo punto quindi adesso ho cinque punti sul ferro 1 2 3 4 e 5 lavorate questi punti abbastanza morbidi altrimenti fate molta fatica poi nel giro successivo quando avete fatto 80 88 punti montate un altro punto aggiuntivo questo punto ci servirà solo per l'unione in tondo adesso dobbiamo infatti unire in tondo il nostro lavoro e per fare ciò controlliamo bene che tutti i nodini siano rivolti verso l'interno e che i punti non sono attorcigliati su se stessi come qua devono avere tutti la stessa direzione con il nodino rivolto verso l'interno dopo che abbiamo controllato possiamo spostare l'ultimo punto che abbiamo lavorato sul ferro sinistro ok poi prendiamo il filo che viene dal gommitolo sul ferro destro mettiamo un marca punti e iniziamo a lavorare il primo punto della nuova riga ma per fare l'unione andiamo a lavorare il primo e l'ultimo punto insieme a diritto quindi questi due punti entro con il ferro nella maglia e qua sono entrata passando attraverso entrambi i punti carico il filo sul ferro e lavoro il mio punto a diritto normalmente quindi in questo momento abbiamo lavorato il primo punto abbiamo diminuito l'ultimo punto che abbiamo aumentato solo per fare l'unione del giro adesso stringete un pochino il punto e la codina in modo che non si forma un brutto buco qui al passaggio del giro lavoriamo ora il primo giro quindi abbiamo fatto un diritto ora dobbiamo lavorare un rovescio poi di nuovo un diritto un rovescio e così per tutto il giro alterniamo un diritto e un rovescio quindi quando lavoriamo il diritto abbiamo il filo dietro al ferro entriamo da sopra nella maglia carichiamo il filo e torniamo sul davanti e spostiamo il punto questo è il diritto quando facciamo il rovescio portiamo il filo di lavorazione davanti al nostro ferro entriamo da sotto nella maglia facciamo avvolgere il filo attorno al ferro torniamo indietro e facciamo scivolare la maglia ora lavoriamo un diritto un rovescio per tutto il giro qua mi vedete già verso la fine del giro devo fare ancora due punti e se avete fatto tutto giusto dovreste avere qua adesso un diritto e terminare il giro con un rovescio ora spostiamo il marca punti abbiamo concluso il primo giro il secondo giro e anche i seguenti giri si lavorano esattamente nella stessa maniera quindi ora lavoriamo di nuovo un diritto un rovescio un diritto un rovescio fino alla fine del giro e continuiamo quindi a lavorare questo giro a punta costa 1 e 1 fino a quando raggiungiamo un'altezza di 25 centimetri quando arriviamo all'altezza di circa 25 centimetri iniziamo a fare le diminuzioni quindi qua mi vedete a fine giro continuo normalmente a fare il mio diritto e il mio rovescio e sposto il marca punti ora facciamo un giro di diminuzioni lavorando sempre due maglie insieme a diritto quindi entriamo prendendo due maglie in un colpo solo e lavoriamo a diritto poi di nuovo due maglie chiusi insieme a diritto e ancora per tutto il giro ripetiamo lavorando due maglie insieme a diritto in questo modo a fine giro avrete 44 maglie sul ferro eccomi a fine giro chiudo le ultime due maglie insieme a diritto sposto il marca punti e adesso lavoro un ferro tutto a rovescio quindi tutte le maglie al rovescio quando abbiamo terminato questo giro spostiamo il marca punti e lavoriamo un altro giro di diminuzioni chiudendo sempre due maglie insieme a diritto adesso i punti sul ferro saranno sempre meno e quindi in questo giro farete leggermente fatica ma si riesce comunque a lavorare i punti con un po di pazienza vi spostate le maglie in modo da poter lavorare agevolmente quando vedete che la lavorazione diventa troppo stretta potete aiutarvi in questo modo spingendo le maglie verso le punte vi rimarrà un po fuori questa questo filo del ferro e andiamo a spingere ora verso l'esterno il ferro destro ok così fino a quando riusciamo a piegarlo ora abbiamo tutti i punti sul ferro sinistro e continuiamo a lavorare le nostre diminuzioni questo metodo è il famoso metodo del magic loop ed eccomi a fine giro dovremmo adesso avere 22 maglie sul ferro lavoro lavoro l'ultima maglia elimino il marca punti e magari mi sposto i ferri in modo da avere tutti i punti che non mi scappano e taglio un pezzo di filo abbastanza lungo per chiudere il cappello ora prendiamo il lago da lana così e iniziamo a raccogliere le maglie ora io inizio a prendere la prima maglia del giro che avrei dovuto continuare a fare ok quindi partiamo prendendo i punti dal ferro sinistro se vogliamo ci spostiamo tutti i punti proprio sul ferro sinistro ok sistemiamo il filo e iniziamo a chiudere quindi vado con lago da lana a prendere una maglia o due maglie come vi trovate bene e le carico sul lago da lana e man mano scarichiamo tutti i punti vado avanti ecco che mi mancano gli ultimi punti ok tolgo i ferri e con delicatezza vado a stringere ok fino a chiudere completamente il buco una volta che abbiamo chiuso dobbiamo fissare con un paio di punti quindi prendiamo lago e passiamo ancora attraverso le maglie e iniziamo a stringere ancora quando abbiamo passato un paio di volte possiamo tornare al centro sul rovescio e ora nascondiamo la codina passando sempre attraverso le maglie per un paio di volte ora tagliamo l'eccesso e andiamo a cucire anche l'altra codina e qui andiamo a cucire direttamente sul lato rovescio del nostro cappello che poi alla fine il modello è praticamente rivoltabile quindi e passo attraverso le maglie quando ho fatto un paio di centimetri verso l'alto torno indietro verso il basso e taglio l'eccesso e il nostro cappello è pronto